Questa sera abbiamo scoperto una cosa. È ufficiale. Non siamo imbattibili. È ufficiale. Anche noi possiamo perdere le partite. Prima sconfitta stagionale, prima sconfitta dell'era Tiago Motta, prima vittoria in Champions per lo Stoccarda, che aveva pareggiato e perso le prime due. Complimenti allo Stoccarda, perché sono una squadra molto divertente, in primis, che stasera ha meritatissimo la vittoria. Prendiamo questo presupposto. Lo Stoccarda meritava di vincere la partita questa sera. 100%. Apro e chiuso a parentesi, da Emiliano ho apprezzato in particolar modo poi lo strescione che hanno portato, chiuso a parentesi. È una partita difficile da analizzare questa, perché oggettivamente quando arrivi al termine di una partita del genere, secondo me c'è una cosa soltanto da dire, e cioè che l'unica cosa che si salva da una prestazione del genere, da una serata del genere, è Mattia Perin, che rinnoverà per altri due anni, giustamente. Diventerà secondo portiere della Juventus per altri due anni, che se lui l'ha fatto capire chiaro e tondo non si sente il secondo portiere, e stasera credo che abbia dato anche l'impressione di non essere minimamente un secondo portiere, perché è stato il migliore in campo e ha parato il rigore e ci ha dato anche la possibilità di pensare, di sperare, di sognare, di andare là con la testa, con la fantasia. Ma purtroppo non è andata così. È stata una partita dove la Juve non è mai entrata in gioco. È stata una partita dove la Juve è stata completamente messa sotto nel ritmo, nel palleggio, nel possesso del campo, nel dominio del gioco. La Juventus oggi esce davvero dal campo con, secondo me, un po' di fango addosso. E sicuramente non è la maniera giusta per prepararsi alla partita di campionato con l'Inter. Ma sinceramente a me dell'Inter stasera mi fregava poco, perché fare un buon risultato in Champions era essenziale per dare continuità di rendimento alle prime due. Ora non dico che questa partita vada ad annullare quello che abbiamo fatto a Lipsia, perché non è così. Assolutamente no. Però capite da voi che quei tre punti di Lipsia avrebbero meritato, proprio per il modo in cui sono arrivati, un esito diverso in questa partita che poteva essere forse anche più facile sulla carta rispetto a quella di Lipsia. Anzi, siccome senza il quasi, dato che Lipsia e Stoccarda giocano all'interno dello stesso campionato e in questo momento le due squadre hanno uno stato di forma completamente differente. Ieri Tiacomotto ce l'aveva detto, loro sono una squadra che vuole rimanere con il possesso del pallone, dovremmo cercare invece di andarlo a sottrarre, dovremmo cercare di averlo noi e noi non ci siamo mai riusciti. Cioè, stasera è stata la prima partita stagionale dove mi sono davvero sentito una squadra che non ha la palla. Adesso non so nemmeno quant'è il possesso del pallone, vado a vedere se ci sono delle statistiche così al volo, ma secondo me lo Stoccarda è quella che ha tenuto più la palla. In realtà è stata abbastanza equilibrata, 51-49, ma secondo me la sensazione è stata completamente differente, oltre ovviamente alle conclusioni. Perché la Juventus questa sera sta diventando un problema grosso, sta diventando un problema che ci stiamo portando dietro, sta diventando un problema continuativo. La Juventus non sta riuscendo a produrre delle vere e proprie palle gol. La Juventus tira, ma non riesce a produrre delle vere e proprie palle gol. La Juventus quando arriva lì non riesce a creare delle vere e proprie azioni pericolose. E questa non è la prima volta, non è la prima serata. Anche con la Lastra questa cosa era accaduta. Ci sarebbero troppe cose da dire. Troppe. E non so nemmeno se ci riuscirò a farlo all'interno di questo video. Quindi appuntamento magari a domani e anche agli altri contenuti, perché sicuramente qualcosa mi sfuggirà. Vado un po' a ruota libera. Non mi sono piaciuti i cambi, perché con Seisau che esce, che era forse il più pimpante lì davanti, è un cambio che non ho compreso. È un cambio che secondo me grida Inter, e cioè cerco di preservarlo in vista dell'Inter. Però io stasera volevo portare a casa un buon risultato con lo Stoccarda. Poi concentrarmi sull'Inter. Poi magari è perché UEA e con Seisau insieme Tiago Motta non li riesce a vedere, occupano la stessa porzione di campo, eccetera, eccetera. Non lo so. Però cambi non mi sono piaciuti. Dico la verità. Non mi sono piaciuti. Non mi è piaciuto nemmeno veramente questo approccio della Juventus che a un certo punto sembrava quasi essere a suo agio nel non avere il pallone. No, fermi. Questa Juventus non può non avere il pallone. Questa Juventus non può difendersi senza palla. Non è la Juventus degli anni passati. Questa Juventus può difendersi con la palla. Se questa squadra smette di avere il pallone, è finita. Cioè questa squadra, l'unica caratteristica davvero positiva che ha in questo video campionato è avere il pallone. Perché tramite il possesso del pallone riesce a non subire. Stop. Questa è l'unica caratteristica di questa Juve, che ha una gran solidità difensiva data dal fatto che va a controllare e a dominare il controllo del gioco. Se questa Juve perde questo controllo del gioco, è finita. Non ha più modo perché ritorniamo al problema di qui sopra, e cioè davanti facciamo fatica a creare delle vere e proprie occasioni da gol. Da calcio piazzato in questo momento siamo nulli in zona offensiva, e quindi viene a sé che se poi loro invece di occasioni da gol ne creano tante. E la cosa incredibile è pensare che loro abbiano davvero creato occasioni da gol per tutto il tempo. Perché io nel primo tempo pensavo, ok, sono partiti forti, caleranno. Invece no, hanno mantenuto alto questo livello. Un livello che hanno continuato a mettere in campo, ad esprimere. C'è stato un momento in cui sono calati, in cui siamo venuti fuori noi. E proprio in quel momento lì, proprio in quell'istante, dopo che c'eravano giocati un jolly grandissimo, dove sono andati a fare una chiamata a VAR, dove il giocatore avversario l'aveva presa con questo pezzo, che è quella zona grigia di ci sta o non ci sta, come è quella zona grigia di per me il loro attaccante andava espulso e quindi Ebilalture non sarebbe entrato. Perché lì siccome c'è una grave desattenzione dell'arbitro che va a condizionare per forza le cose la partita, al di là del fatto che lo Stoccarda è stata la squadra migliore in campo, la Juventus ha avuto dei seri problemi, è che è giustissimo che lo Stoccarda abbia vinto questa partita, però Stoccarda vince questa partita con gol di un giocatore che intelligentemente entra dopo un minuto rispetto a un cartellino che doveva prendere. Questa è una piccola nota a piedi pagina che per dovere di cronaca andava fatta. Però io voglio capire quel minuto di follia relativo a Danilo. Cioè vorrei capire davvero quel minuto di follia relativo a Danilo. Perché intanto quel fallo lì, dove prende il primo cartellino giallo, è un fallo secondo me tranquillamente evitabile. Se poi c'è una punizione che buttano dentro la reazione è un secondo cartellino giallo più conseguente fallo da rigore, il Juventus in questo momento è in continua balia dei calci di rigore, delle espulsioni. Ogni partita della Juve ormai è una guerra da quel punto di vista. E arriva pure il fatto, arriva pure il miracolo, arriva pure il miracolo di Perin, perché fa veramente una parata mostruosa all'interno di una prestazione meravigliosa, dove aveva salvato il risultato in più occasioni Perin, veramente l'uomo in più di questa Juventus. Eppure, nonostante tutto, nonostante questo, alla fine, a un certo punto, arriva comunque la fregatura. Che ripeto, nel computo generale della partita, se fosse stata una partita ai punti, sarebbe stata meritatissima. Però che nervoso, però che nervoso, perché se in una partita in cui riesci a farti andare tutto bene, perché di questo stiamo parlando, una partita in cui la Juventus aveva meritato poco, e in cui era riuscita a fare tutto bene, l'era andata tutto bene, riesci ad arrivare a quel punto lì, che sei ancora sullo 0-0, e sei nel recupero, e ti basta difenderla, e prendi un super gol del genere, a me, sinceramente, nonostante la serata, nonostante la partita, nonostante i complimenti agli avversari, erode un po' il culo. Erode un po' il culo perché ci mette a nudo. Cioè, questa sconfitta è davvero il re nudo. Ora, la Juventus è nuda, e se in queste settimane in cui comunque di limiti ce n'erano dal punto di vista della produzione offensiva, sono cose, ripeto, che stiamo continuando a ripetere, la Juventus segna troppo poco, 11 gol in 8 partite di Serie A sono inaccettabili, perché sono troppo pochi, veramente troppo pochi. Ora siamo nudo, perché abbiamo pure perso, mentre i risultati, fino a questo momento, andavano un pochino a coprirci. È brutto da dire, ma la Juventus non sta funzionando al 100%. Poi ci sono sempre le solite attenuanti della Serie, siamo all'inizio, primo anno, nuova guida tecnica, nuovi giocatori, queste cose ci sono sempre. Però io vorrei vedere un pochino di più anche dei nuovi acquisti. Dispiace tanto per Douglas Luce che si sia fatto male il risanialdamento, perché purtroppo questo ragazzo in questo momento sta andando tutto male. qualsiasi cosa gli succede al contrario, veramente al contrario. Se può andargli male è una cosa che andrà peggio. Turam fino adesso non mi ha ancora impressionato al 100%. Commeiners quando è stato disponibile ha fatto delle buone partite secondo me, ma non delle partite da livello di Commeiners. Da quello che è stato Commeiners che ci ha dimostrato di essere Commeiners. Con Seisau secondo me è bene, secondo me bene, molto bene Caluru, bene Di Gregorio, Cabal, stiamo nel mezzo, nel senso che non si capisce ancora che tipo di giocatore è. Nico González è un altro che vorrei capire come riusciremo a inserirlo all'interno di questa Juve. Non lo so, Ildis è un tema caldissimo. Stasera Tiago Motta ha voluto tenerlo in campo a tutti i costi, anche a costo di togliere Turam e rimanere molto molto offensivo nel recupero con un giocatore in meno, una scelta molto coraggiosa che passava da Lipsia ma stasera non era la Juve di Lipsia proprio dal punto di vista di quello che ti passava ti dimostrava non eravamo la squadra di Lipsia non eravamo nella serata di Lipsia quindi con il secondo di poi è sempre facile parlare perché Lipsia fu una lettura intelligentissima una lettura mostruosa una lettura che ha cambiato la partita con il secondo di poi è sempre facile però io stasera ero molto preoccupato perché c'era andato fin troppo bene fin troppo bene quindi stasera la Juve è nuda il re è nudo Tiago Motta è nudo vengono fuori tutti i limiti di questa Juve prima sconfitta stagionale quindi non è un dramma per forza di cose perché arriva dopo 8 e 3 11 partite se non ho contato male dovrebbe essere una roba del genere ufficiali ovviamente però arriva anche in un momento in cui servirebbe andare un po' di più un po' più in alto servirebbe cercare di trovare una bella vittoria una bella partita con una bella vittoria che possa farti dire ok stiamo stiamo andando su stiamo salendo di grado non è che ci siamo presentati così e siamo rimasti così il concetto di Tiago Motta migliorare 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 in questo momento non stiamo ancora migliorando in questo momento siamo un po' fermi a quello che è stato Juve-Como e tutto il miglioramento deriva da quest'estate secondo me quest'estate la Juve ha fatto un grandissimo miglioramento enorme però non sta ancora migliorando e farlo ora avere ora una nottata del genere in Champions League prima dell'Inter temo che possa essere una sorta di spada di Damocle che si infila qui tra capo e collo brutta partita della Juve se dopo la Lazio avevo detto che era la peggior partita stagionale perché eravamo in 10 contro 11 e non avevamo prodotto ecco ora arriva la grande vera pessima partita peggior partita stagionale dove non solo non abbiamo prodotto ma abbiamo subito tantissimo quindi occhio perché poi l'Inter sarà una squadra che invece giocherà per vincere giocherà per produrre e noi che avevamo paura un pochettino della Juve che andava a incontrare delle squadre chiuse stasera ha incontrato una squadra che in realtà è venuta a giocare e abbiamo fatto molta molta fatica quindi problemi ci sono i limiti ci sono l'importante è evidenziarli l'importante è capire come convivere con questi stasera purtroppo più che una delusione mi rode il culo perché eravamo appena arrivati a quel momento in cui si poteva riuscire a portare a casa almeno un pareggio all'interno di una serata molto difficile e non siamo stati abbastanza bravi questo è forza Juve stasera più che mai in attesa di domenica sera dove dovremo cercare di invertire la tendenza e sicuramente fare una bella partita con l'inter riuscirebbe a a farci dimenticare un po' tutto ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti